Manca meno di un mese alle elezioni amministrative. A Silea l'attuale sindaco Rossella Cendron si ricandida con la lista civica di centro Silea Oggi nel segno della continuità. La nostra lista civica Silea Oggi si ripresenta nel segno della continuità col motto condividiamo il nostro futuro, proprio perché con competenza e passione vogliamo finire il lavoro che abbiamo iniziato 5 anni fa. Alla domanda su quali siano le prime tre cose che farebbe nel caso si riconfermasse sindaco, Rossella Cendron non ha dubbi. Riqualificazione urbana, impianti sportivi, viabilità, traffico e piste ciclabili sono i temi sui quali punta la lista Silea Oggi. Sicuramente parliamo di riqualificazione urbana, quindi valorizzazione dei centri storici, delle piazze cittadine, degli edifici storici da riqualificare, impianti sportivi concepiti come cittadella dello sport e ricucitura delle piste ciclabili. Senza tralasciare gli aspetti delicati legati al disagio sociale, sempre più evidenti nella nostra società, finanziamenti saranno dedicati anche alla cultura con una novità importante che coinvolgerà la musica e i giovani. Interventi anche in ambito sociali, quindi con un lavoro importante di famiglie in rete per combattere il disagio sociale che ha aumentato negli ultimi due anni e soprattutto uno sguardo potente sulla cultura come per esempio la valorizzazione di quella che può essere la nascita di una nuova orchestra giovanile a Silea.